musica 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 ma dov'è finito l'alcaruso di un tempo? quanto è vero che mi chiamo niccolò carosio ha già cambiato nome a quanto pare non gli piaceva il nome di prima e ne ha dato l'anagrafe succede adè al 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 oh no guarda chi c'è fai finta di parlare al telefono troppo sgammabile guardarlo girati troppo tardi a quell'orario dormo sempre profondamente meno male perchè sennò la cosa sarebbe abbastanza preoccupante è un carpelli è un film di carpelli neorealista ci sarà il suo motivo dai come non possiamo che film ho visto io? cazzo chiamate subito ricky the walking dead se lo ammazzi avremo addosso tutta la mafia di New York qua mi rimangio tutto altro che ricky chiamata direttamente terminator ciao 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 ciao